Chi è Carmine Gurga? Sono io. Si presenti, da dove viene e cosa fa? Sono originariamente dall'Italia, specialmente da Rocca d'Aspide, che è un paesino più a sud di Eboli, che è una relazione molto importante perché se si ricorda ci fu un libro di Carlo Levi, che Cristo si fermò ad Eboli e il significato è che al di sotto di Eboli non ci fu mai civiltà cattolica o civiltà europea. E Rocca d'Aspide è al sud di Eboli. Lei ha lasciato il suo paese, Rocca d'Aspide, che era piccolo, con i suoi genitori, poi ha lasciato anche l'Italia e lei ha lasciato l'Italia per motivi di studio, perché? Principalmente, sì, 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 assolutamente. Mi iscrissi all'Università di Napoli nella facoltà di scienze politiche e dopo tre anni di lavoro ho chiesto al mio professore, che era il relatore per la tesi, dico, ma io sono stanco morto di parole, parole, parole delle scienze politiche, perché non mi dà qualcosa di concreto, qualcosa che posso masticare, posso capire, può aiutarmi. E lui ci pensò un po' e poi dice, ah, io ho proprio la risposta giusta per te e mi raccomandò di studiare il pensiero politico di Louis D. Brandeis, che è un gigante del pensiero americano, in effetti, ed era un giurista che salì alla Corte Suprema, nominato da Wilson, quando aveva 56 anni. prima nella sua vita, la sua vita fondamentale fu di capire come è la situazione industriale, come è messa insieme e naturalmente studia moltissimo i mergers, le acquisizioni, i monopoli, e il problema di JP Morgan e l'other people's money, è uno dei titoli, il denaro degli altri. Quindi studiò intensamente e spiegò agli altri com'è che l'organizzazione economica è messa insieme in un ambiente industriale. Quindi è molto, molto importante, molto importante. Per lei questo è stato un punto di partenza, la ricostruzione dell'economia teorica. Lei poi cosa ha fatto? Sono cose che capitano nella vita. Uno non le cerca, ma ti vengono sulle spalle e devi portarle a termine quanto più è possibile. Entrai in un negozio, in una libreria qui a Boston nel 1965 e trovai un libro che si chiama La teoria generale di Keynes. Io dico, ah, ne ho sentito parlare perché avevo studiato economia già da 4-5 anni, però non avevo mai letto l'economia di Keynes, perché è un classico e naturalmente i classici non si leggono e non si danno da studiare agli studenti. I classici si tengono da parte perché sono preziosi e non bisogna toccarli. Ma io fui tentato e trascorsi un'intera estate a cercare di capire che cosa che Keynes diceva. E lui ti portava così per filo, per segno, ti spingeva, ma vieni qua, guarda, al prossimo capitolo ti chiarirà questo problema che non è chiaro ora e vedi che un'altra cosa così, cola, 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 ti tirava sempre indietro, sempre con quest'ansia di trovare la soluzione e di farti capire come era l'organizzazione dell'economia, del sistema economico. Arriva pagina 328, se non sbaglio, e lui dice, mi dispiace, ma se tu non accetti questa proposizione che i risparmi sono uguali agli investimenti, non c'è niente che io posso fare per te. Io dico, signore, lei si presenta come uno scienziato, se si fosse presentato come un teologo, come un mistico, come un uomo da fare e io come, a qualsiasi altra persona, avrei accettato questa proposizione, dico, vabbè, non c'è niente da fare, è un sistema che è così e devo accettarlo perché tu che sei un professore, un iscritto, capisci, più di tutti, mi dici che non c'è altro modo, ma se non mi spieghi mi dà fastidio. Allora cominciai a rileggere il libro all'inverso e cambiai una sola parola, invece del risparmio. Il risparmio è una cosa che confonde i termini e il risparmio è uguale agli investimenti, solo in alcuni termini. Se si mette il risparmio sulle banche, si ha un reddito, quindi è come un investimento, però se si mette il risparmio sotto il materasso, come esiste in India, come esiste nel sud dell'Italia, questo non è più uguale all'investimento. Per capire quello io devo cambiare il nome e così lo chiamai tesoreggiamento. Una volta che chiamai tesoreggiamento tutto cambiò, tutto cambiò, tutto quello che lui cercava di dire diventò chiaro. Perché dovevo distinguere ora da tesoreggiamento il risparmio, che non ha significato da un punto di vista teorico, perché il risparmio è solo a funzione delle finanze, ma non dell'economia. Signor Gorga, lei nel corso della ricostruzione dell'economia teorica ha conosciuto un personaggio qua importante per l'economia, un premio Nobel dell'economia, Modigliani. Come l'ha conosciuto? Io naturalmente ero in cerca di economisti che potessero valutare il mio lavoro. E tanti economisti non volevano neppure parlare con me. Invece il professore Modigliani mi accettò per un pranzo all'MIT Club. Cominciamo a discutere e entrammo in comunicazione così molto accalorata, perché io dicevo delle cose che lui era d'accordo, però a volte non era d'accordo. E poi alla fine la discussione veniva in un modo meraviglioso, veniva risolta in un modo meraviglioso, perché il professore Modigliani, essendo Modigliani e capendo le cose, poteva valutare quello che io dicevo e quello che gli altri dicevano e quello che lui e gli altri teorici dicevano. E mi diceva, ma quello che tu dici non è l'inflazione assoluta, è l'inflazione relativa. Naturalmente quelle solo due parole ti cambiavano tutto il discorso, diventò chiaro per lui quello che io dicevo e diventava chiaro per me quello che lui diceva e quello che gli altri dicevano. E fu una relazione continua in quel modo là, come il professore che ascolta il bambino e dice, ma è che dici, sono sciocchezze, però non gli dice mai, sono sciocchezze perché altrimenti il bambino non si sente libero di esprimere i suoi pensieri più. Poi ti aggiunge proprio quel tantino da mettere così vita nella discussione. Fu una relazione essenziale per me perché io ero solo in un mondo nuovo che stavo creando e ricreando e se avevo l'appoggio e l'ascolto del professore Omedigliano, a me non interessava più niente. Quello che gli altri dicevano non aveva importanza per me, era essenziale che il professore Omedigliani fosse d'accordo con me e mi offrisse l'opportunità di spiegare, di chiacchierare e di discutere assieme e lui mi dirigiva, dice guarda questa cosa qui, non guardare quella cosa lì, assolutamente essenziale da tanti punti di vista, dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista morale. Quindi l'essenza del suo lavoro di questi anni è quella di riportare la moralità. Esatto perché da un punto di vista parlare del tesoreggiamento è parlare di moralità perché è l'unica decisione che è veramente libera, quindi è morale. Mi faccio spiegare un po' perché la decisione di io voglio comprare da mangiare e tutto il non ho scelte, non ho scelte. L'altra scelta che io posso fare è fra Gucci e Pucci, ma quella non è una decisione economica, è una decisione estetica. Una volta che ho deciso che mi serve la borsa di Gucci, mi preoccupo se è Gucci o Pucci, ma non è una discussione economica più, è una questione estetica. Quindi l'altra discussione è degli investimenti, gli investimenti dove si mettono, che cosa si può fare, creare il pane o creare delle costruzioni così come vediamo qui di fronte a noi, eccetera, ma anche quelle sono più o meno limitate, ma la decisione veramente libera è quella di tesoreggiare o di spendere. Quella è la decisione fondamentale, però è l'unica decisione veramente morale. Perché naturalmente se io tesoreggio ti crea la povertà, se io tesoreggio ti crea la mancanza di sviluppo economico e altre relazioni che sono importanti in relazione all'inflazione, tutta la costruzione dell'economia. Ritornando invece sul personale, lei ci manca tanto da Rocca d'Aspide? Non molto, perché l'altro marzo, questo marzo qui, presentai un saggio ad Amalfi e naturalmente dopo aver presentato il suo saggio, dei cugini vennero a prelevarmi e andiamo a Rocca e così tutto, quindi sono stato a Rocca proprio. Ha trovato cambiata da quando l'ha lasciata? Parecchio sì, parecchio sì, specialmente perché dalla casa di mia cugina potevo vedere la mia casa cugina, di origine dove io sono nato, sono vissuto e fra le due c'erano dei campi di grano che erano bellissimi, quel vento che ti fa spostare come un'onda, il grano così, è bellissimo. Vogliamo salutare qualcuno a Rocca d'Aspide? Ah sì sì sì, tutti i miei capuano sono i cugini dalla parte di mamma e ho una cugina dalla parte di papà che è Ada, Ada Faella e trascorre dei mesi a Rocca ma poi vive a Roma con le figlie e tutto il resto, sì sì, ciao! Ciao!